Classifica provvisoria e classifica generale Sanremo 2023. Il conduttore chiude la seconda serata annunciando tutte le 28 posizioni provvisorie. La seconda serata di Sanremo 2023 si è chiusa con una doppia classifica. Come accaduto per martedì 7 febbraio, le tre componenti della giuria della stampa, tv, radio e web, sono state chiamate a votare le interpretazioni delle altre 14 canzoni in gara. I tre sistemi di votazione hanno un peso sul risultato complessivo della votazione pari ad un terzo per ognuno. Amadeus ha annunciato la classifica provvisoria della seconda serata e la prima classifica generale di Sanremo 2023. Quest'ultima è stata stilata sulla base dei voti congiunti ottenute da tutte le 28 canzoni in gara in questa edizione del festival. Classifica Sanremo 2023 seconda serata. Tutte le posizioni. Nella classifica di Sanremo della prima puntata si è collocato al primo posto Marco Mengoni con, due vite. Seguono e lo dì con, due, coma trattino basso cose con, l'addio, ultimo con, Alba, e Leo Gasman con, terzo cuore. Nel secondo appuntamento con il festival. Andato in onda mercoledì 8 febbraio 2023. La top 5 provvisoria è composta da. Il sesto posto ha visto Rosa Chemicol seguiti da Paola Chiara. Levante e articolo 31. Decima posizione per Modà. Undicesimo LDA. Dodicesimo Will e tredicesimo Shari. Ultimo posto per Setu. Classifica generale Sanremo 2023. Mengoni Domina e Anna Oxa Ultima. In chiusura della seconda serata dell'8 febbraio Amadeus ha comunicato la classifica generale di Sanremo 2023. La prima della settantatreesima edizione. Che include i cantanti che si sono esibiti sia nel primo che nel secondo appuntamento. 1 grado Marco Mengoni. 2 gradi Cola Pesce di Martino. 3 gradi Madame. 4 gradi Tananai. 5 gradi Elodie. 6 gradi Coma Trattino Basso Cose. 7 gradi Lazza. 8 gradi Giorgia. 9 gradi Rosa Chemicol. 10 gradi Ultimo. Fuori dalla top 10 Leo Gasman. All'undicesimo posto seguito da Mara Sattei. Colla Zio, Paola Chiara e Cugini di Campagna. Sedicesima posizione per Levante. 17esima per MR. Reine. 18esima per Articolo 31 a cui seguono Gianluca Grignani. Ariete. Modà. Gian Maria. Olli. LDA. Will. Chiudono Anna Oksa. Shari è all'ultimo posto delle classifica generale Setu. Clive-Letto. Chiudono per Monta. Sui, lei. Ciao. Giudecia pubblicità con lo scuola Biuolo. E' un'ottimo posto delleかチуры Olli. Grazie a tutti